Luca Cappellino Revisore Luca Cappellino Revisore Scuola e digitale. Due parole che non sempre suonano molto armoniose. Da un lato immaginate infatti il mondo frenetico e velocissimo della rete delle nuove tecnologie. Dall'altro pensate alla realtà decisamente diversa della scuola italiana, fatta ancora in tanti casi di aule poco connesse, di attrezzature non sempre adeguate, di competenze digitali non scontate. Due mondi che quindi sembrano quasi muoversi a velocità diverse. Tutto sta però cambiando nella scuola italiana, con i suoi tempi ma sta cambiando. E sta cambiando anche e soprattutto grazie ai docenti che sono sempre più connessi e sempre più coinvolti per condividere idee, metodologie, strumenti. Ecco, per chi come me si occupa di creare strumenti digitali per la scuola, questo scambio e confronto costante che c'è oggi tra gli insegnanti è davvero una fonte inesauribile per nuove idee. Ed è anche l'occasione per interrogarsi su un aspetto a mio avviso fondamentale. Tutti questi strumenti che stanno entrando nella scuola, e non parlo solo di tablet o di lavagne multimediali ma anche di robotica, di stampanti 3D, delle infinite app che oggi esistono anche per fare didattica. Ecco, tutti questi strumenti nella loro semplicità di strumenti sono solo un modo per rendere diciamo più coinvolgenti e interattive le lezioni o possono essere anche un'occasione preziosa per far conoscere più da vicino ai ragazzi il mondo digitale che li circonda. Far conoscere quindi i meccanismi più profondi del web e delle nuove tecnologie, parlando di diritti, di doveri, di rischi ma anche di enormi potenzialità. Sto parlando del concetto di cittadinanza digitale e della necessità che la scuola educhi futuri cittadini che sappiano usare la tecnologia in maniera competente, consapevole e anche creativa. Se è vero come si dice che tanti bambini che ci sono in questo momento alla scuola primaria da grande faranno un lavoro che ancora non è stato inventato, beh io credo che puntare sulla creatività anche digitale sia una questione fondamentale. Tutto questo però senza dimenticare le difficoltà che tuttora vi sono nel parlare di digitale nella scuola. Riuscite infatti a immaginare concretamente un docente oggi alle prese con il grande tema della scuola digitale? Qualche tempo fa, per rappresentare in maniera anche ironica questo insegnante ideale, con alcuni docenti ho creato un personaggio emblematico. Ve lo presento, il professor Santo Digitale. Allora, senza grosse pretese artistiche, il fumetto è una modalità creativa e narrativa che utilizziamo molto per raccontare la nostra idea di scuola ed è anche una mia passione. Bene, chi è il professor Santo Digitale? Beh sicuramente è un insegnante che è convinto dell'utilità di introdurre la tecnologia all'interno della didattica, convinto della necessità, se volete, anche morale di insegnare ai propri ragazzi a utilizzare in maniera responsabile questa tecnologia. Cosa può fare concretamente con gli strumenti digitali? Tantissime cose. Può ad esempio creare una mappa concettuale su qualsiasi argomento disciplinare. Può utilizzare uno strumento inclusivo, ad esempio un'app per la lettura automatica dei testi. Può proporre dei contenuti d'approfondimento, perché no? Anche un video. Ecco, può fare tantissime cose. Il nostro professore però non è semplicemente un professore, è anche un discreto atleta. Che cosa significa? Significa che decidere oggi, per un insegnante, di introdurre il digitale nella didattica, in tantissimi casi, significa lanciarsi in una imprevedibile e ardita corsa ad ostacoli. Gli ostacoli possono essere più disparati. La connettività, sicuramente. La presenza o meno di strumenti digitali all'interno delle scuole. Il divieto che in tanti casi persiste nel far utilizzare i dispositivi elettronici ai ragazzi. Mille altri ancora. Oltre a questi vi sono poi ostacoli forse meno tangibili, ma non meno insidiosi. E mi riferisco agli equivoci, ai fraintendimenti, alle resistenze, alle diffidenze che vi sono tuttora nel parlare di didattica digitale. C'è infatti chi può sostenere che tutti questi strumenti, in fin dei conti, non siano altro che fonti di distrazione o, peggio ancora, che possano, in qualche modo, compromettere le capacità di apprendimento dei ragazzi. Ecco, di fronte a queste posizioni, in realtà va sempre evidenziato che siamo a scuola. Per cui, l'utilizzo di uno strumento, di qualsiasi strumento, digitale o no, è evidente che è all'interno di un progetto educativo ed è un uso, non certo un abuso. Il docente, che avete visto, per come l'abbiamo immaginato, non è sicuramente un fanatico del digitale a tutti i costi, né io personalmente ne ho mai incontrati pur girando tanto tra le scuole. Ho invece incontrato molti insegnanti che insistevano su questo aspetto di educare alle tecnologie, viste anche come possibilità, soprattutto per gli studenti, per creare dei contenuti, non solo per recepirli passivamente. Prima, infatti, vi ho fatto vedere qualche semplice esempio di cosa può fare un docente con la tecnologia. Ma pensate a cosa possono fare gli studenti, anche con i loro dispositivi di tutti i giorni, che a ben vedere sono strumenti potentissimi per effettuare ricerche, per consultare dizionari online, per creare contenuti, video, presentazioni, animazioni, qualsiasi cosa. E' chiaro che prima devo insegnare ai ragazzi a utilizzare la tecnologia di tutti i giorni, anche per questi scopi. Ecco, pensando un po' ai tanti professori santo digitale sparpagliati nelle scuole di tutta Italia, qualche anno fa abbiamo lanciato il nostro progetto per la scuola, Fidegna. Che cosa abbiamo creato? In sostanza abbiamo creato un social network per la scuola, un social network didattico. Social network e didattica mi rendo conto che possano sembrare due termini un po' lontani, in alcuni casi forse antagonisti. Però sapete, con le giuste accortezze, i meccanismi comunicativi e collaborativi delle piattaforme sociali possono essere molto efficaci in un contesto di classe. Come funziona, in sostanza, questo strumento? Il professore accede e crea una classe virtuale, ad esempio la terza C. Preciso che classe virtuale non è nulla che si sostituisce alla classe reale, piuttosto è qualcosa che accompagna e arricchisce le lezioni in presenza. Potete immaginarla come il gruppo di un qualsiasi social network, con la differenza che qua siamo in un ambiente protetto, ci sono solo docenti e studenti, e abbiamo tutta una serie di funzionalità specifiche per la didattica. Che cosa può fare questo insegnante? Ovviamente ha una bacheca dove può inserire dei contenuti, un video, una dispensa, un link, può chiaramente inviare messaggi e comunicazioni alla sua classe, dialogando in tempo reale con gli studenti. Può assegnare delle attività, teste e verifiche sicuramente, ma anche lavori di gruppo, ricerche, lavori condivisi all'interno di uno stesso documento, tante altre cose. Ovviamente poi il vantaggio è che gli studenti in qualsiasi momento ritrovano in piattaforma tutto questo materiale, lo possono consultare come e quando vogliono, quindi anche nel rispetto dei vari tempi e stili di apprendimento. Bene, fin qui è uno strumento utile, innovativo, pur sempre uno strumento. In che misura può diventare un'occasione per parlare di cittadinanza digitale? Beh, la classe virtuale che avete visto a tutti gli effetti è uno spazio reale, uno spazio dove lo studente non deve solo svolgere le attività che vengono disposte dai propri insegnanti, deve imparare anche a relazionarsi con gli altri, con i compagni di classe e con i propri insegnanti. Deve imparare a dialogare online, evitando in qualsiasi modo atteggiamenti ostili, derisori o conflittuali. Deve imparare a collaborare, quindi ad avere rispetto degli altri esattamente come lo deve avere nelle relazioni, diciamo, offline. Ecco, questo aspetto dell'educazione ai media, quindi sapersi comportare in rete, è evidentemente un aspetto fondamentale per crescere gli adulti di domani. Se poi io, insegnante, chiedo ai miei ragazzi di effettuare una ricerca online e di condividere i risultati in piattaforma, beh, sicuramente deve insegnare a individuare i contenuti più pertinenti e, diciamo, veritieri, ma allo stesso tempo deve insegnare anche a utilizzarli e riutilizzarli correttamente, ad esempio nel rispetto del copyright o delle varie licenze d'uso. Ecco, sono solo alcuni degli esempi dei temi fondamentali di cittadinanza che la scuola può affrontare parlando di digitale e utilizzando strumenti anche come quelli che vi ho fatto vedere. Ovviamente non solo, però, sono tutti strumenti che possono servire. Deve quindi uscire un po' dall'insistenza sugli aspetti meramente negativi del web e delle tecnologie e puntare più sulla consapevolezza. Spiegare quindi i rapporti che vi sono tra vita reale e vita virtuale. Spiegare l'importanza della collaborazione e della condivisione anche in un ambiente virtuale. Insegnare anche a utilizzare in maniera equilibrata tutti questi dispositivi che, indubbiamente, hanno scombussolato le nostre vite e adesso bisogna imparare a gestirli. Infine, la creatività. Io credo che il digitale renda molto più vicine e accessibili tante modalità espressive che prima non lo erano. Oggi uno studente può creare una presentazione multimediale, può raccontare un'esperienza tramite un blog, tramite un video, una radio online, può creare in maniera collaborativa ebook, immagini interattive, può esprimersi davvero in un'infinità di modi, iperattivi, ipertestuali, tutto quello che volete. Ma si tratta pur sempre di creazioni e dello specifico di narrazioni, con tutto il potere liberatorio e trascinante di una narrazione, sia che racconti una tua esperienza, sia che racconti una tua idea o anche un argomento disciplinare. Ecco che, in quest'ottica, il digitale diventa un'opportunità, anzi, diventa tante opportunità per ampliare le possibilità di espressione di un individuo. E poi l'esempio di prima del fumetto come nostra modalità per raccontare un'idea di storia. Sfruttando questa cosa incredibile di unire immagini, testi, segni e di rendere più vicini concetti anche lontani o comunque articolati. Nei nostri percorsi nelle scuole cerchiamo di incentivare il più possibile il ricorso a questi strumenti narrativi, affinché si diffonda sempre di più un gusto per la narrazione. Strumenti narrativi che il digitale rende praticamente alla portata di tutti. Adesso, nel caso del fumetto, lo puoi disegnare digitalmente, come ho fatto io, oppure puoi anche non disegnare affatto, puoi utilizzare uno dei tanti software che esiste per creare storie con foto o anche con personaggi e sfondi già pronti. Ripeto, l'importante è la narrazione, la creazione e l'utilizzo della tecnologia per diffondere cultura e creatività. Da fruitori più o meno distratti, tutti, docenti e studenti, diventano anche autori di contenuti digitali. Ecco, questo è all'incirca quello che abbiamo scoperto, che stiamo scoprendo in questo viaggio incredibile nella scuola digitale, come si dice. Eravamo partiti con l'idea di creare strumenti in qualche modo utili alla didattica e ci siamo ritrovati immersi in questa narrazione gigantesca che è il cambiamento della scuola anche grazie alla tecnologia. E vi dico, è davvero entusiasmante in questo momento far parte di questa narrazione che si sta facendo a poco poco insieme a tutte le altre parti che sono i docenti, i dirigenti, gli studenti, le famiglie, tutti gli attori coinvolti in questo processo di innovazione, con l'augurio di trovare sempre più un'armonia creativa tra il mondo della scuola e il mondo che ci circonda. Grazie.